Gesù è venuto per te nel nome del Padre. Cristo risorto! Buona giornata, cari amici! Accogliamo il Vangelo di oggi che illumina la nostra vita. Giovanni 5, 31, 47 In quel tempo Gesù disse ai giudei Se fossi io a testimoniare di me stesso la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere quelle stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa. Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè credereste anche a me perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti come potrete credere alle mie parole? A me. Carissimi, oggi Giovanni 5 è di nuovo la continuazione del miracolo fatto da parte di Gesù a quest'uomo da più di trent'anni malato presso la piscina di Bezzetà a Gerusalemme. Ecco che i farisei si sono scagliati contro Gesù perché aveva guarito quell'uomo in giorno di sabato e non avevano creduto ai suoi segni. non credevano in Gesù come Messia, come figlio di Dio. Ecco che le parole di oggi quindi sono rivolte ai giudei, a queste persone ipocrite, col cuore indurito e che non avevano saputo vedere in Gesù quello che lui era e rappresentava per il popolo ebraico. Ecco che Gesù allora dice se non volete credere a me credete a colui che testimonia di me, credete alle mie opere, credete a Giovanni il Battista, credete al Padre mio che mi fa compiere questi segni, credete nelle parole di Mosè perché lui ha parlato di me. Ecco che Gesù dice quindi che la testimonianza che sta dando non viene da se stesso ma dagli altri. E oggi noi che bussiamo alla porta di Dio per ricevere benedizione. Prendiamo queste stesse parole di Gesù per comprendere qual è il piano meraviglioso di Dio. Gesù ci sta dicendo che lui è venuto qui sulla terra. Si è fatto carne, si è fatto uomo, si è fatto come noi per manifestare a ciascuno di noi l'amore del Padre. Quanto è importante carissimi amici comprendere soprattutto in questo tempo di Quaresima e tra poco di Pasqua che Gesù davvero era un uomo di carne ed ossa. Gesù davvero era un uomo con cui si parlava, con cui si poteva dialogare, un uomo che ha amato l'umanità. Tutte le persone che lo circondavano, le persone che andavano da Lui e in Lui e sulla croce. Con la Sua risurrezione tutti noi abbiamo fatto esperienza dell'amore del Padre, del progetto del Padre. Gesù è immagine di Lui. Quante volte noi non lo vediamo, quante volte incontriamo persone non credenti, atei che dicono io non credo in Dio. Dio non c'è, se ci fosse il mondo sarebbe differente, ma quale idea di Dio, amici? Che immagine abbiamo di Dio? Un'immagine a nostra somiglianza, ovvero ciò che noi fantastichiamo nella nostra mente o un'immagine conforme alla parola di Dio. Perché nel Vangelo noi riceviamo qual è questo Dio? Qual è il volto del Padre? Il volto del Padre è presente nel volto del Figlio. L'amore di Dio si è manifestato pienamente nell'amore di Gesù Cristo per noi. Ecco perché oggi è un'occasione meravigliosa per avvicinarci a Lui e non dire chi lo sa, se Dio mi ama, se Dio ha il mio fianco, se Dio mi aiuterà. È la Sua parola, Gesù stesso lo dice, che ci parla di Lui, che ci attira a Lui. Allora lasciamoci innamorare da questo amore, da questa bontà, da questa misericordia, da questa fortissima presenza di Dio che è aperta a ciascuno di noi, fratelli e sorelle, ed è possibile sperimentare. Allora vi invito insieme a me diciamolelo, vieni Signore Gesù, vieni oggi nella mia vita, vieni oggi e mostrami quanto Tu mi ami. Io in Te Signore Gesù voglio scoprire il volto del Padre, voglio fare una nuova esperienza unica, sentire le braccia calorose di questo Padre che anche oggi mi accoglie e mi prende. Donami davvero, oh Signore, la luce ai miei occhi, che i miei occhi possano vedere quanto questo Padre ha amato me e quanto ci tiene alla mia vita. Io ti benedico, io ti glorifico, esalto il Tuo nome sopra ogni altro nome. A Te Signore Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli a me. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi Gesù è venuto per te nel nome del Padre e che sia davvero un'esperienza da chiedere a Dio. Fammi sperimentare che Tu sei venuto per me, che Tu sei venuto per riempire la mia vita e dare un senso e una realizzazione a tutta la mia vita e alla mia famiglia. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Grandi cose ha fatto il Signor per noi Grandi cose ha fatto il Signor per noi Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso la nostra lingua di gioia Grandi cose ha fatto ha fatto il Signor per noi ristabilisci ristabilisci Signore la nostra sorte come i torrenti del Neger chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia grande 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 cose ha fatto il Signor